Sono 47 nuovi casi di covid in Abruzzo su 1.398 tamponi processati. Il tasso di positività supera il 3%, 311 sono invece i pazienti dichiarati guariti nelle ultime 24 ore. Il bilancio dei deceduti sale a 1.185 con 9 nuovi casi, persone d'età compresa tra 61 e 91 anni, uno in provincia di Pescara e otto in provincia di Teramo. Del totale odierno, otto casi fanno riferimento a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. Sottraendo il numero dei guariti e dei deceduti, ad oggi i positivi in Abruzzo sono 11.272, meno 273 rispetto a ieri. 10.850 sono residenti in provincia dell'Aquila, 6.964 in provincia di Chieti, 7.048 nel Pescarese, 9.283 nel Teramano. 280 provengono da fuori regione, mentre per 155 sono in corso verifiche per accertarne la provenienza. 451 pazienti, meno 6 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 38 in terapia intensiva, più 1 rispetto a ieri con 2 nuovi ricoveri, mentre gli altri 10.783, meno 267 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Lo comunica l'assessorato regionale della Sanità.